Ciao amici, benvenuti nel mio canale. Tagba Buyukustun, lontano dagli schermi per un po', torna. È stato annunciato anche il suo partner nella sua nuova serie. Prima di passare al nostro video, non dimenticare di iscriverti al mio canale e di mettere mi piace e condividere il mio video. Nuova serie tv di Tuba Buyukustun. Tuba Buyukustun, che ha iniziato a diffondere la sua fama con la serie in cui ha recitato, sta tornando. Guarda chi era il suo partner nella serie. Ezen Babu Buyukustun ha firmato un nuovo accordo per la serie tv come una tempesta con la serie tv Olive Branch. È stato annunciato anche il suo partner nella serie. Ibrahim Celicol e Tuba Buyukustun, che recentemente si sono fatti un nome con la serie tv Bird Flight, reciteranno nella stessa serie. Secondo il rapporto di Altintas, Ibrahim Celicol ha firmato un accordo con i media la settimana scorsa. Il famoso attore apparirà davanti al pubblico nei panni di Akan Dagistan, il proprietario di una delle più grandi imprese di costruzioni del paese. Nella serie televisiva, Until Death. È stata annunciata l'attrice che darà vita alla moglie di Akan, Tagba, nella serie scritta dal regista di Serdar Gosdeleklik, Baza Kaksam. Tagba Buyukustun, che ha ricevuto molte offerte in questa stagione, ha preso la decisione fino alla sua morte. Si dice che la serie, che dovrebbe essere una serie Canal D, presenterà un argomento interessante. I fan che si aspettano una grande interpretazione dal nostro attore di successo attendono i dettagli della serie con grande entusiasmo. Cari spettatori, arrivederci a vedervi nei nuovi video e nei nuovi sviluppi da parte nostra per ora.